Un saluto da Mario Giuliacci e agli amici di Vivere Pesaro. Che tempo farà in questa settimana su Pesaro e Promiccia? Ebbene, le fresche corrente atlantiche giunte lunedì al centro-nord insisteranno fino a giovedì di questa settimana, tanto che le temperature massime resteranno al di sotto della media su valore di 26-28 gradi. Ma poi, tra venerdì e domenica, si affaccia all'anticiclo nord-africano, le temperature riprendono a crescere, tanto che le temperature massime saranno intorno a 29 gradi a Pesaro, 31-32 nelle zone interne. L'anticiclo nord-africano diverrà ancora più insistente tra lunedì e mercoledì della prossima settimana e quindi in quei giorni sono previsti valori di 30-31 gradi lungo le poste, 33-35 nelle zone interne. Per quanto riguarda i fenomeni, sono previsti ancora temporali, pomeridiane nelle zone interne del Pisarete, sia martedì che mercoledì. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.